Oggi parte una nostra modalità nuova come giunta, voluta fortemente dal sindaco, di metterci un po' in gioco rispetto alla città. Abbiamo nel corso della campagna elettorale raccolto ognuno la criticità rispetto a come l'amministrazione comunale si pone rispetto appunto al contesto cittadino. Questo ha portato all'emersione di un elemento forte di criticità che era quello della comunicazione. Quindi raccogliendo la responsabilità che i cittadini hanno inteso darci abbiamo scelto per avviare questa nuova fase della comunicazione istituzionale di organizzare queste conferenze stampa a fine di ogni giunta. È un atto appunto di responsabilità che noi intendiamo fare dando l'agenda dei lavori, entrando nel merito delle singole determinazioni, riacquisando una nostra comunicazione quindi che abbia una valenza assolutamente istituzionale che vuole in questa maniera mettere a disposizione di tutto il territorio le maggiori informazioni possibili.